Oggi siamo sul set di questa nuova roba qua e io interpreto un personaggio molto intenso, molto importante, ci ho messo anni ad impararlo, un addetto alle polizie. Comunque vorrei far notare a tutti come questo outfit da addetto alle polizie col mojo, col spazzolone, ricorda molto decisamente un'umpa-lumpa. Finite le riprese, ho fatto questa grandissima interpretazione da addetto alle polizie oggi all'interno di questo spazio incredibile. Siamo stati ospiti della scuola di danza di Marte, vi lascio qui il tag, vi lascio qui il link. Finalmente, eccolo qua, eccolo che si scatena il tipico tempo dei tropici, il caraibico, eccolo là. Intento a prendere la signora piena che se no... No, no...